allora i pupazzi non sono decollati parrebbe che un pupazzo se si è sentito mano manichino gli è venuto un attacco di panico niente voleva scendere voleva scendere niente non ce l'hanno fatta ma chissà io dico adesso devono riparare il razzo dicono che c'è stato un guasto tre giorni per riparare sto cesso di cosa ma che meccanici ha la nasa ma secondo me saranno scesi i pupazzi a ripararlo ecco perché ci mettono tanto speriamo che nel frattempo i pupazzi non siano rimasti come dire scioccati dal fatto che non sono decollati vediamo 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 ragazzi fatto molto emozionante questo dei pupazzi no pupazzi no luna bene anche per oggi per le micchiate spaziali è tutto ciao pupazzi